www.feyyaz.com ma aspettati che maniano, poi fai un po' ciao chiamato il cuore è la sbarrita cosa qua? non c'è non è un salato? non c'è un salato non c'è un salato oh si 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 riprendi quando la macchina è la piattaforma di ora vai 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 pronto? vai 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 siamo a Senacania, a Fumadana anche a Fumadana come ti tiro? vai di qua a capire vai di qua a capire ok i medi non Vieni giù, vieni giù, vieni giù. Vieni giù, c'è la signora. Vieni, vieni, vieni. Vieni per il vestito maiale. Ma abbiamo fatto il vestito. Ma adesso lo tagliamo. Ma come ci stiamo? Vieni. Vizio, non si fuma nel ristorante. Vizio. Vizio, non si fuma. Ragazzi, fuma là fuori. Guarda a basso non un. Due, uno. Vieni, vieni. Ahah! Gureee! squirrel! Tanto sei grezza! Ahah... Gure! Manni! Gure! Gure! Manni! Primo piano della faccia di Manni al sera di Capodanno Tutto il mio fame... Gure! Gure! Ahah! No dai... No no no! rovini tutta la ripresa gore! 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 noo! noo! che è successo? eh la vecchia! Grazie a tutti. E' impossibile.